Spettacolo da parte dei tifosi della San Benedettese del Chieti Clima, quantomeno da Serie C allo Stadio Riviera delle Palme. Luca Relli l'ha definita la vigilia, la sfida più bella del girone per la storia di queste due squadre. Di Mino gode di spazio sulla destra, scarica una conclusione con la risposta efficacia di Knoflach nel Chieti Assenti. Fabrizi in campo c'è Rodia dal primo minuto al fianco di Akamadu. Grande sportività tra le due curve, tifosi delle Chieti che rispondono con uno scrosciante applauso in risposta allo striscione esposto dai sostenitori rosso-blu per omaggiare Massimo Cioffi, il tifoso scomparso. Gran bel gesto, ecco l'applauso. Quindi De Sena, il più pericoloso della San Benedettese, il tentativo aereo che però non inquadra lo specchio quindi sul versante opposto Akamadu, scambia con Verna che scarica fuori ma un buon Chieti concentrato nel corso della prima frazione che concede davvero pochissimo al punto di riferimento centrale dell'attacco rosso-blu, Mendicino, meglio De Sena che tenta l'acrobazia ma il Chieti risponde sul calcio piazzato del quale si incarica Pietrantonio quindi segna Akamadu per il Chieti ma viene fermato dall'assistente di Vailati di Cremona più di un dubbio però la sensazione è che il gol sia regolare per Akamadu tenuto in gioco al momento del colpo di testa la stessa sorte anche per Ferretti dunque si resta sul punteggio di parità a San Benedetto del Tronto anche qui non semplice la decisione dell'arbitro c'è spazio prima dell'intervallo solo per la punizione di De Sena bene il Chieti che però nel secondo tempo deve difendersi dall'attacco della San Benedettese quindi ancora un ottimo pallone lavorato sulla corsia destra con Di Mino che cede ad Akamadu ad un passo dal vantaggio il Chieti che protesta per una posizione di fuorigioco da parte di De Sena in particolare Lucarelli, lo stesso De Sena che reclama poi in area di rigore ma si può proseguire, torna in avanti il Chieti con una certa convinzione anche se manca sempre qualcosa in fase di finalizzazione ma la squadra di Lucarelli arriva per prima su ogni pallone tutta la velocità di Baldè che se ne va in progressione una saetta, l'attaccante è entrato al posto di Akamadu fermato con le cattive Daz, Grablic, Rosso diretto San Benedettese in inferiorità numerica Baldè imprendibile, si sarebbe trovato tutto solo davanti al portiere Bassini potrebbe segnare da buona posizione il calcio di punizione ma non trova il gol che avrebbe fatto esplodere i tifosi del Chieti che comunque a fine incontro accolgono i giocatori con un meritato applauso San Benedettese in difficoltà soprattutto nella ripresa Chieti imbattuto in trasferta al Riviera delle Palme il risultato finale San Benedettese 0-Chieti 0 Per noi queste prestazioni sono tutte le domeniche qualcuno ci caccia pure per difensivisti perché va a vedere lo score dei gol fatti e dei gol subiti ma noi abbiamo una statistica più professionale che dice che noi attacchiamo tanto e non realizziamo questo è diverso, evidentemente dobbiamo prendere meglio la mira essere più cinici, più cattivi e cercare di vincere le prossime partite perché per la scuola è frustrante ma io ho un bel gruppo che sta cercando di reagire perché oggi sicuramente noi potevamo e dovevamo vincere secondo me però è andata così, ci prendiamo questo e lavoriamo ancora evidentemente bisogna lavorare ancora di più non c'è altra strada perché piangersi addosso non serve a niente in realtà in casa noi proviamo perdiamo tanti palloni al limite dell'aria dobbiamo essere più bravi non rischiare per forza la giocata invece loro, le squadre avversarie vedo che in questa categoria si difendono tutte e ci partono in controviete avendo gli attaccanti bravi ci fanno gol noi facciamo un 3-5-2 che oggettivamente è molto offensivo perché abbiamo i quinti molto alti in realtà noi ci trasformiamo spesso in un 3-3-4 se uno gli piace leggere i numeri e prepariamo le partite in questa maniera sapevamo che loro giocavano col 4-3-3 poi hanno cambiato, dobbiamo prenderli in ampiezza e mi sembra che noi ogni volta che cambiavamo fronte di gioco loro facevano fatica ma anche per la Samba non è semplice perché sta pian piano costruendosi oggi sono rientrati tanti calciatori ha bisogno di tempo pensare di vincere un campione di Serie D partendo in questa maniera secondo me è un po' troppo ambizioso sì, questo è uno stadio che io ci ho visto tantissime partite poi avvennavo la Vezzano sono venuto qui una volta e rapporti chiuse purtroppo in Serie D quando c'era Di Massimo che poi ha giocato con la Samba da lì fu visto Di Massimo e spesso vengo a vedere le partite ho già detto San Mettese e Chiedi sono in assoluto le società più forti più importanti con la tifoseria del genere non penso che verrà mai nessuno così in massa come è venuto oggi a San Benedetto se eravamo primi ne venivano altri 500 però non lo siamo quindi ci accontentiamo in difesa un attimino ci siamo sistemati nel senso che subiamo meno gol perché effettivamente nelle ultime almeno da quando ci sono io sono stati subiti poco gol due gol abbiamo preso di cui uno su calcio piazzato e quindi al 94esimo però dobbiamo migliorare anche la fase offensiva e allora abbiamo cercato di stringere un po' con due attaccanti perché se giocavamo con il 4-3-3 vediamo che spesso l'attaccante in mezzo era da solo e allora abbiamo provato a mettere vicino i due attaccanti accentrando un esterno mettendolo un po' dietro le punte per essere più diretti e verticalizzare di più forse qualcosa di più abbiamo fatto però poi non li abbiamo fatti nelle occasioni che abbiamo avuto abbiamo sbagliato e quindi alla fine conta il risultato e siamo indifendibili quando non vinci queste partite sei indifendibile c'è poco da dire c'è solo da lavorare cercare di migliorare siamo tutti in discussione i giocatori in primis chiaramente e la società giustamente sta guardando anche al mercato che verrà a livello psicologico noi stiamo lavorando con i ragazzi io non posso dire niente ai ragazzi sotto il profilo dell'impegno che ci mettono negli allenamenti li vedo concentrati quindi non c'è sicuramente malafede in nessuno di loro questo deve essere chiaro assolutamente perché veramente i ragazzi ci danno e quando entriamo nello spogliatoio sono i più dispiaciuti probabilmente ripeto messi insieme le condizioni che si sono create il fatto che non sono arrivati subito i risultati possono essere andati in difficoltà tanto si vede anche nelle altre squadre i giocatori che magari un anno sembrano bravissimi l'anno dopo magari qui si è verificata una situazione per tanti motivi che è difficile capire di preciso quale sia che ha creato questa situazione in cui la squadra non riesce a rendere per il valore che ha e quindi è normale che qualcosa bisogna fare bisogna fare bisogna che ognuno si prenda la propria responsabilità